Dopo un'altra vittoria sofferta, il Famila, Guber e Schio ha raggiunto un obiettivo. Le Orange si sono qualificate per la finale sguudetto in seguito al successo sulla Passalacqua a Ragusa. Schio aveva già vinto gara 1 in trasferta questo martedì. Finì 66-68 a favore delle Orange. Venerdì sera il Famila ha quindi ospitato la seconda sfida della serie, vincendo la Maconna, una sofferenza importante. Dopo il primo quarto infatti le ragazze di coach Vincent sembravano dirette sulla strada giusta grazie al bel gioco, dinamico ed efficace. A fine terzo quarto i giochi sembravano ormai chiusi, Schio sopra di 13 e ancora a soli 10 minuti da giocare. Ragusa invece non ha desistito, è riuscito a recuperare lo svantaggio fino a portarsi sotto di due punti a un minuto della fine. Il Famila, seppur con qualche difficoltà, tenuto in risaldi e non ha più concesso nulla. Alla fine Schio è trionfato per 60-54. Il bello arriva adesso, con questa ennesima grande prova il Famila si è qualificato per la finalissima in programma a partire dalla prossima settimana. Avversarie saranno le ragazze della Reier Venezia, sino a cui regina del campionato. Non sarà facile ma il trionfo in semifinale è un ottimo punto di partenza per provare a portare a casa un altro scudetto.